Siamo con Don Bruno Lancuba presso uno dei locali della parrocchia Santa Maria delle Grazie di Agropoli per un'iniziativa importante. In questi giorni la comunità ucraina sta vivendo la guerra purtroppo e quindi il popolo agropolese si stringe al popolo ucraino e ha messo subito in moto la macchina della solidarietà tant'è che oggi tantissimi cittadini hanno donato alimenti, insomma beni di prima necessità da mandare proprio in questi paesi. Don Bruno, allora come si svolge questa iniziativa? È solo oggi? Ci saranno altre raccolte? Come funziona? Allora abbiamo raccolto l'appello della comunità ucraina che vive nel nostro territorio e sono parte della vita sociale e della vita religiosa di questo territorio. Sono membra di questa comunità e abbiamo subito attivato, come dicevi tu, la macchina della solidarietà che è iniziata ieri lunedì e che va avanti ancora per questa settimana neanche per la prossima settimana, raccogliendo quelli che sono i generi di prima necessità, dalle medicine agli indumenti pesanti perché lì il clima è rigido, ai generi alimentari a lunga conservazione. Se come diceva il Papa la guerra ci allontana dall'umanità, devo testimoniare che la solidarietà ci avvicina, ci fa sentire tutti i membri di una stessa famiglia che è la famiglia umana. L'appello è stato raccolto immediatamente da tutti, da singoli cittadini, da associazioni, da negozianti, da gruppi vari, farmacie perché sono raccolte di medicine, ma altre parrocchie, non solo sul territorio agropolese. Sono stato chiamato ad esempio dal parroco di Prignano, Cicerale e Monte Cicerale, dal parroco di Piaggine, dal parroco di Gromolo e Ponte Barizzo, dal parroco di Novi Velia, oltre le comunità ecclesiali. Mi hanno interpellato anche il comune di Ogliastro con l'assessorata ai servizi sociali, per dire che vogliono coinvolgersi essendo pure loro di dover fare qualche cosa, l'unità al si dicapaccio con una raccolta, Castellabate, cioè realmente le più svariate associazioni, i più svariati gruppi, i movimenti, realmente è corale questa solidarietà ed è bellissima questa fraternità che si instaura, nella speranza che realmente questa umanità nostra possa sempre più apprezzare le ragioni della pace e ripudiare la guerra, come diceva un Papa, come un'inutile strage. Rende un sentimento condiviso che ci affraterna e che ha qui nel l'Oratorio San Maria delle Grazie il punto di raccolto, il punto di riferimento. Direttamente le persone, la comunità ucraina si sta, come dire, interessando alla gestione, alla preparazione dei pacchi poi da inviare. Ecco, come procederà poi dopo aver raccolto tutti questi beni di prima necessità? Come funziona, Don Bruno? Come arriveranno poi lì? Allora, già ieri sera sono stati ritirati perché ieri poi c'è stata una grande partecipazione, vengono portati a Salerno e di lì, con canali che conoscono, c'è un sacerdote di riferimento che viene anche in questa parrocchia una volta al mese a celebrare per queste comunità orientali, hanno i loro canali per permettere che questi prodotti possano arrivare in Ucraina a destinazione, per cui, come dire, c'è un filo diretto, no? Salerno e poi Ucraina. A quelli che vivono in questo territorio voglio dire che il cuore ferito da questa guerra, che è sempre disumana la guerra, è il cuore ferito non soltanto loro ma anche di tutta la comunità, cioè tutti noi sentiamo la sofferenza per quello che sta accadendo e è corale la realtà, per cui si sentano parte di una comunità che soffre, che condivide le loro preoccupazioni, nelle loro angosce e che prega. Abbiamo pregato affinché questa guerra possa avere termini immediatamente, le ragioni della pace possano prevalere sulla guerra. E poi io, per quanto riguarda le persone stanno rispondendo alla grande, invito a essere perseveranti in questa gara, potremmo dire, di solidarietà, perché realmente questo allarga anche il nostro cuore, oltre che far bene a coloro che soffrono, che sono feriti, che sono sotto le bombe, che è uno sentire che non sono sole, ma questo fa bene anche a noi, realmente ci fa essere sempre più umani, sempre più cristiani anzi. La città di Agropoli risponde con il suo immenso cuore alla richiesta di aiuto, di emergenza, che purtroppo il popolo ucraino sta vivendo in questi giorni. Presso uno dei locali dell'oratorio, Santa Maria delle Grazie, messo a disposizione da Don Bruno, voi state realizzando una raccolta di beni di prima necessità. Qual è il tuo appello a tutti coloro che vedranno questo servizio, per far sì di poter raccogliere sempre di più e poter inviare questi beni di prima necessità alle persone che necessitano, perché sappiamo che in questi giorni c'è la guerra, purtroppo. Allora io vorrei dire prima cosa che noi tutti, perché c'è grande comunità ucraina in Italia proprio, ci siamo uniti ogni paesino, pure di campagna, c'è ogni persona che chiamano e perciò abbiamo preso questa iniziativa. Però la prima cosa che vogliamo dire è che noi siamo contro la guerra, noi vogliamo pace, perché ognuno di noi ha genitori, figli, nipoti, non aspettavamo perché teniamo pure amici, parenti russi, io non penso che il popolo russo contro il popolo ucraino, questo è tutto che governo e vedendo adesso queste immagini che fanno bombardare asili, che oggi mio figlio piccolino ha messo una nostra camicia richiamata, domani un figlio non può più mettere questa camicia, fa male a tutti, fa male al cuore. E adesso voglio pure ringraziare perché comunità acropolese, celentana, perché tutti i celentani, associazioni, chiamano, portano tutta roba, veramente vi ringrazio. Ieri abbiamo fatto pure preghiera con Don Bruno, siete vicini, siete come i nostri fratelli, perché noi siamo qua da anni, chi da 10, chi da 20, veramente siamo cresciuti qua e per noi come Italia la seconda mamma, perciò avete dato una mano e state dando grandissima, vi ringrazio. Poi abbiamo messo tutte le cose necessarie, giustamente che serve roba alimentare, quella lunga conservazione, medicinali, quelli che per primo soccorso, poi pure in fiale per fare in ospedale che manca tutto, roba termica, se qualcuno tiene pure di caccia, pelle sacco, materesini per campeggio, vi ringraziamo di cuore e speriamo che finisce tutto e ognuno si abbraccia, nostri figli, parenti, genitori, grazie. Xana, quando possono venire qui gli agropolesi cilentani in generale a donare questi beni di prima necessità? Troveranno aperto questo punto che, ripeto, è presso l'oratorio della Chiesa Santa Maria delle Grazie, proprio qui dove è a ridosso della strada via Pio X, la strada principale, insomma, quindi potete tranquillamente venire qui, ma quando, a che ora, a quali giorni? Allora, noi, diciamo, fino a sabato siamo qua, dalle 10 fino a mezzogiorno, però siamo pure fino a 1 perché, diciamo, comunque rimaniamo di più, e poi dalle 4 fino a 6.30, 7, questo è orario. Poi vediamo se hanno bisogno ancora, vediamo. Per il momento abbiamo fatto perché noi sempre aspettiamo che finisce, sempre aspettiamo che arriva a fine, che non serve questa roba. Puoi lasciare un messaggio finale magari a coloro che riusciranno a vedere questo servizio che si trovano lì, magari, che non so, amici, parenti, magari tramite internet con il cellulare, insomma, che sappiamo il mezzo, quello che hanno un po' tutti. Io voglio dire a tutti i nostri amici, pure genitori che ce l'ho là, figlio, noi non vi abbandoniamo, noi siamo con voi, lo so, è difficile che noi non possiamo fare niente, vi giuro, vogliamo venire pure noi là, però, cioè, sai, quando tu non hai forza, non puoi fare niente, sei proprio, cioè, devi vedere che non puoi fare niente, però comunque noi preghiamo perché penso che Dio ci aiuta, e oggi lo stesso facciamo altra volta preghiera, e penso che Dio ci aiuta, grazie a tutti. E siamo con Tatiana, anche la comunità ucraina di Capaccio è qui ad Agropoli per continuare con questa macchina della solidarietà. Allora, tanti sono i cittadini ucraini che vivono a Capaccio e che si sono uniti alla comunità di Agropoli per, ecco, raccogliere beni di prima necessità. Come vi state organizzando? Allora, vorrei dire salve a tutti. Vorrei dire che in questi momenti io vedo unione di persone incredibili, amici bielorussi, amici del sud Ucraina, amici del nord Ucraina, dell'est, dell'ovest, si sono riuniti tantissimo. Io ogni giorno cerco di dare il mio contributo. Domenica siamo stati a Salerno dove si è svolta una grandissima manifestazione e tutti quanti, ogni uno di noi, cerca di portare i beni di prima necessità, soprattutto per i nostri guerrieri, per i nostri ragazzi coraggiosi che non dormono da cinque giorni e ci sorvegliano e fanno svegliare alle nostre famiglie. vivi. Io ho amici che stanno a Kiev, c'è mia carissima amica che sta con un bambino piccolo nei sotterranei senza mangiare, al freddo. Non possono uscire neanche a dare da mangiare ai loro animali che sono rimasti nelle case. Le loro case sono state colpite, le case dove vivono persone. Amici italiani, voglio dire un appello. Io non guardo la TV ma mi dicono che fanno vedere per televisione che Putin sta solo demilitarizzando. Non è vero, non è vero perché conosco tanti miei amici, tanti parenti che sono stati colpiti, molti edifici, molti palazzi di nuove piani, con i razzi. Tante persone sono state ammazzate, bambini piccoli, orfanotrofi colpiti, proibiscono anche avvicinarsi a dargli un aiuto e portare via bambini colpiti. È una cosa che ci fa tanto male e noi con il nostro piccolo vogliamo dare aiuto. Voglio ringraziare amici di Capaccio che mi hanno dato una mano. Il primo appello che ho fatto, la farmacia Iasi, hanno dato medicinali. I miei amici italiani, chi poteva dare medicinali, chi poteva dare soldi, chi poteva dare beni di prima necessità, si sono uniti tutti e ci state vicini. Io da persona che da 22 anni sta in Italia vi voglio dire un grande grazie della solidarietà, di vostro grande cuore, di vostra prontezza di accogliere le nostre donne e bambini che adesso si stanno riforgiando qui in Italia. E vorrei dire grazie immenso al popolo italiano per un grande sostegno, per vostro amore. E spero che il paese di Papa, che lo amiamo tutti quanti, possa seminare la pace il più presto possibile che finisce questo incubo. Grazie a tutti.